Amici di YouTube, ben trovati da Marco Liguori, gravissimo lutto per il mondo del cinema, della televisione, delle serie TV. Ci ha appena lasciato un personaggio che non esiteremmo a definire come un mito assoluto. Prima di saperne di più vi ricordo che a 400 mi piace pubblicherò immediatamente un nuovo video. In questo video parliamo di una notizia shock proveniente dall'America, un vero e proprio mito della nostra infanzia, un personaggio che ci ha regalato innumerevoli emozioni, è scomparso nelle scorse ore. Stiamo parlando di un personaggio che ha cambiato per sempre il mondo della televisione, è con grande rammarico che il primo anno di Marco Liguori annuncia la scomparsa di Jamie Kellner, produttore televisivo e imprenditore americano. Il fondatore della rete televisiva Fox è stato ritrovato senza vita nella sua casa Montesito, in California. Perché parlavamo di personaggio leggendario, perché oltre ad aver creato la nota emittente televisiva americana, è stato anche colui che ha contribuito a lanciare programmi iconici come i Simpsons. Lo ricordiamo e lo ringraziamo per serie TV come Buffy, L'ammazza vampiri, Dawson Creek e Sposati con figli. Lo ricordiamo anche per Seven Even e Felicity. Insomma, un personaggio che ha cambiato per sempre il mondo della TV e delle serie televisive. Non dimenticheremo mai Jamie Kellner, che ha contribuito a rendere indimenticabili, soprattutto gli anni 90 e gli anni 2000, il primo anno di Marco Liguori con tutto il dispiacere del mondo. Ricorda un pioniere della televisione, ricorda colui che ha creato una vera e propria fabbrica di sogni e di emozioni. L'imprenditore, produttore televisivo americano Jamie Kellner, fondatore della Fox e creatore, come accennato poc'anzi di tanti memorabili telefilme, amici di YouTube. Io vi ringrazio per l'attenzione, ricordandovi che i vostri commenti sono fondamentali e che risponderò personalmente a tutti quanti voi. Vi invito a lasciare le vostre opinioni sotto al video. Ricordo che potete seguirmi anche sul secondo di Marco Liguori, il canale dei video di Cronaca. Seguitemi anche sul nuovo canale Marco Liguori. Psicologia e crescita personale. Ciao a tutti.